Arrestata banda di Rom, Soroptimist e Carabinieri, una stanza per denunciare la violenza. Piazzale Bertacchi verso l'inaugurazione. Appoggi i denti, enorastronomia e grande di distribuzione H24. In provincia lo studio del linguaggio del corpo. Adele il lupo, debutta sullo schermo. E poi lo sport, ritmica e tristricolore per Bertolini. Queste le notizie di Telesondrio News. Benvenuti. Nuovi arresti in provincia. I Carabinieri sgominano una banda di rapinatori di etnia assinti. Il fascino dei gioielli e dei capi firmati ha di nuovo ammagliato i professionisti del furto, ma questa volta li ha traditi. Nella giornata di venerdì scorso, 25 novembre, una banda di tre Rom di etnia assinti sono di nuovo entrate in azione, mettendo a segno due colpi, uno a Bormio, presso il negozio Linosport, ed un secondo a Tirano, presso la gioielli a Pianta, per un bottino del valore di 13 mila euro. Ma grazie alla sinergia fra il comando della stazione Aduana e quello di Morvegno, i tre soggetti, un uomo di 29 anni e due donne di 48 e 37 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto di eccettazione, come commentato dal comandante della compagnia di Sondrio, Paolo Ferrarese. Un'operazione che ha dimostrato che l'arma è presente sul territorio e che ci tiene in particolar modo a questi fenomeni delinquenziali. Un'attività comunque che ha messo in evidenza anche l'ottimo comportamento investigativo dei miei uomini, i due reparti che si sono subito attivati per divenire alla identificazione dei responsabili. Ad entrare nei dettagli dell'operazione, il capitano della compagnia di Sondrio, Serena Galbaglio. I malviventi hanno agito secondo un modo superante ormai collaudato. La donna di 48 anni, fingendosi una cliente, ha studiato i movimenti della proprietaria distraendola e contemporaneamente è entrata in azione la coppia di Roma, che ha chiesto la visione di alcuni gioielli. Nel frattempo la 48enne, per l'ondare dell'occhio, ha effettuato un acquisto di pochi euro, mentre i due hanno rubato bilmente ben due lotoni di monili dal valore di 11.000 euro. Azione che molto probabilmente è stata adottata anche nel negozio di articoli sportivi di Bormio, ma su questo non si ha la certezza, considerato che il proprietario dell'esercizio si è accorto del furto solo dopo che i carabinieri di Tirano, una volta ritrovate le due giacche griffate dal valore di 2.000 euro, hanno contattato l'esercizio, uno dei pochi che vende capi di questo livello. La banda è stata bloccata intorno alle 18.30 di venerdì a Cosio Valtellino, come annunciato grazie alla perfetta sinergia fra il comando tiranese e quello della Bassa Valle. Il maresciallo aiutante di Tirano Giovanni Guerrieri, grazie anche ad un vigile urbano, è riuscito a rintracciare un'autosospetta di targa straniera, una Citroen, riconducibile ad una famiglia Roma, come aveva comunicato la commessa della gioielleria di Tirano. Da qui la chiamata ai colleghi di Morbegno, che con il luogotenente Antonio Sottile hanno visionato le telecamere di videosorveglianza per verificare le auto entrate sul territorio. Dai filmati è apparsa la stessa targa della vettura segnalata a Tirano, ma non ancora uscita dalla provincia. A questo punto controlla il tappeto lungo la statale 38, soprattutto Cosio Valtellino, e alle 18.30 l'intercettazione dei furfanti. Una volta riconosciuti e portati in caserma di Morbegno, sono stati perquisiti e dal mezzo sono apparsi magicamente i monieli impallottolati in fazzoletti di carta, occultati sotto i sedili, per eludere eventuali controlli e i due giacconi di marca, ed è così che per i tre sono scattate le manette. Grave incidente stradale alle 11.50 stamane a Rogolo. Un uomo di 65 anni ha perso il controllo della propria bicicletta in via delle rime e branze, cadendo violentamente a terra. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini della polstrada di Dimese, ora impegnati nella ricostruzione dell'accaduto, e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al 65enne. Il ciclista è stato ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Gravedona. Sono optimist e carabinieri al fianco delle donne vittima di abusi. Una stanza tutta per sé, per trovare il coraggio di lasciarci alle spalle la violenza e ritornare a vivere. Con questo obiettivo, venerdì, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso la caserma del comando provinciale dei carabinieri di Sondrio, è stata inaugurata l'omonima saletta, grazie alla collaborazione fra gli uomini dell'arma e l'associazione Soropio Ministro del Capoluogo, presieduta da Lorena Bonetti, che sarà riservata alle donne, pronte a rinunciare ai sopraiusi subiti. Per questo motivo si è pensato di realizzare un ambiente caldo ed intimo, ha sottolineato la Presidente Bonetti, che è discosti da quello rigido militaresco, che possa ammettere a proprio agio chi ha trovato il coraggio di esternare la violenza subita. Abbiamo voluto fortemente la realizzazione di questa stanza, perché pensiamo che un ambiente caldo, accogliente, possa ripagare in qualche modo la forza che queste donne vittime di violenze di genere possano trovare in un ambiente che le accolga e che le faccia sentire a proprio agio dopo aver trovato perlomeno la forza di superare la paura. Al taglio del nastro anche la Vice Presidente Nazionale di Soropio Ministro, Laura Marelli, che ha stilato un quadro della situazione in Italia, 108 i femminicidi dall'inizio dell'anno, una tendenza che fa preoccupare, anche se leggermente al di sotto, della media europea, mentre solo il 14% delle donne che subisce una violenza ha poi il coraggio di denunciare. Da qui l'idea della Soropio Ministro è di realizzare queste stanze. Con quella inaugurata venerdì a Sondrio, il numero delle stanze presenti in Italia sale a 55. Oscar Cantoni è il Vescovo di Como. L'investitura è avvenuta ieri alle 15.15 con le parole pronunciate dall'ACI Vescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola. Pochi minuti dopo, l'inizio della cerimonia all'interno di un duomo che ospitava migliaia di persone intervenute per dare il benvenuto al successore di Monsignor Di Rocoletti. Originario di Lenno, il 66enne Cantoni, è stato Vescovo di Crema dal gennaio 2005. Si avvicina l'inaugurazione del nuovo piazzale Bertacchi, prevista per il 17 dicembre. Regalare alla città un nuovo spazio per manifestazioni e socialità. È questo l'ospicio di comune e commercianti in vista dell'imminente riapertura del rinnovato piazzale Bertacchi. Dopo gli ultimi non facili mesi di lavori, l'area sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 17 dicembre con un evento tra musica, convivialità e momenti dedicati ai più piccoli che permetterà ai sondriesi di familiarizzare con il nuovo assetto di questa realtà nevralgica della vita del capoluogo. Completamente pedonalizzata diventa maggiormente fruibile per tutti i cittadini ma anche per i commercianti stessi in quanto questa diventa assolutamente un'opportunità. Mi riferisco soprattutto a chi ha attività commerciali come bar o ristoranti o pizzeria. Insomma possono utilizzare anche quello spazio e stendere la possibilità di esercitare l'attività anche in una parte dello spazio pubblico. La nuova piazza può essere una risorsa perché come voi avete potuto già vedere la piazza è diventata bellissima, la piazza sarà pedonalizzata, la piazza sarà molto più fruibile per cittadini, per ospiti, per turisti, per tutti quelli che vorranno passare del tempo lì. I commercianti, uniti nel segno di una nuova sinergia, si dicono pronti a cogliere a pieno le opportunità offerte dal restyling della zona antistante alla stazione. I commercianti della zona da una difficoltà hanno preso una grande opportunità iniziando dal giorno dell'inaugurazione, faranno dei momenti a tema, dei momenti culturali, musicali, dove creano degli eventi per far diventare un punto di ritrovo e d'incontro anche a Piazza Lebertacchi. Questo è uno spazio nuovo che è stato poi destinato ai cittadini. Quindi io sono ben contento che questi nuovi spazi lasceranno la possibilità intanto ai commercianti che hanno la possibilità con le loro attività di bar ristorazione di poter uscire sulla piazza con i tavolini, così come è già successo in altre piazze poi pedonalizzate. E nei momenti poi magari cruciali di alcune manifestazioni, magari già margini di manifestazioni importanti, pensiamo già a Sondria Accesa, quindi durante l'estate o quando sarà, ci organizzeremo e vedremo di creare anche noi eventi musicali, culinari, insomma arte, cultura, insomma abbiamo diverse idee e vedremo cosa riusciremo a portare avanti. Veri protagonisti dell'inaugurazione saranno i cittadini. Fino al 12 dicembre, infatti, presso i negozi della zona si potranno trovare i coupon per partecipare all'estrazione che stabilirà il nome di chi sarà chiamato a tagliare il nastro nel corso della cerimonia. Chiesa parrocchiale di San Giacomo di Teglio gremita per dare l'ultimo saluto a Sabrina Fendoni, la 41enne vittima sabato scorso dell'incidente con l'elicottero sul quale viaggiava con due amici rimasti invece feriti. Il velivolo, decollato da Caiolo, è precipitato sui morti tra Varese e Svizzera. Sabrina, da sempre appassionata di volo, lascia una bimba piccola. In provincia si consolida sempre più un nuovo modello di business per la grande distribuzione. Che ci crediate o no, in Italia sfiorano quota 200, sono per la precisione 180, i super e gli ipermercati che restano aperti 24 ore al giorno. E non soltanto nei grandi centri come Milano, Roma, Napoli o Torino, ma anche in realtà urbane con minor numero di abitanti. Artefice dell'impresa, il gruppo francese Carrefour, secondo distributore nazionale, fondato nel 1959 da Marcel Fournier e Louis Defry. Primo punto vendita della penisola ad applicare la formula All Day, quello di piazzale Principessa Clotilde a Milano nel 2012. Le più recenti indagini di mercato vedono fra i clienti tipo dello 024 una clientela attenta all'offerta, alla ricerca del prodotto, con un alto indice di favore all'orario continuato che supera il 70%. In Valtellina, spetta al supermercato Le Rocce di Poggi Ridenti dal 2010 affiliato al gruppo francese il merito di aver introdotto nel territorio la combinazione H24 in un contesto di vendita che offre alla clientela margini di qualità e di scelta davvero alti. Il supermercato Le Rocce è aperto 24 ore dal mese di giugno quindi siamo aperti 7 su 7 24 ore. Siamo gli unici in Valtellina a effettuare questo servizio. Una nuova filosofia in realtà un attaccamento e una attenzione alla clientela nella quale l'ipermercato smette i panni di semplice luogo di acquisto intervallato dagli scaffali per divenire una finestra sulla cultura dell'alimentazione in cui il rapporto qualità-prezzo rimane coerente. Una ricerca e una cura dalla quale traspare tutta l'esperienza della famiglia Mottolini notoriamente legata alla produzione d'eccellenza della Bresaula. Le Rocce non è un supermercato qualunque ma abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo. Qua siamo nella zona degustazione dove è possibile oltre a mangiare a mezzogiorno organizziamo delle cene e degustazioni. Uno staff qualificato e preparato vi accoglierà tutti i giorni per farvi degustare e consigliarvi sui nostri prodotti. Un approccio commerciale che è più un ritorno ad una cura alla quale troppo frequentemente negli ultimi anni gli acquirenti hanno perso l'abitudine. Una legge dell'offerta per la quale l'esercente sceglie tenendo realmente conto dell'affezione e al contempo della curiosità dei propri clienti e in cui la forza di un gigante mondiale quale Carrefour diviene veicolo per le realtà dell'enogastronomia valtellinese. Un punto saliente dove personalmente mi impegnano nell'acquisto di prodotti particolari è l'enoteca dove oltre trovare le migliori case vinicole locali. Troverete anche dei particolari vini che vengono da tutta Italia e anche da tutto il mondo. Altra novità in arrivo per i clienti del punto Carrefour Le Rocce la prossima entrata in funzione della distribuzione a domicilio. Altro servizio che stiamo approntando per il mese di gennaio è quello delle consegne a domicilio quindi dietro semplice telefonata durante la giornata avremo la possibilità di consegnare entro il mezzogiorno della giorno seguente qualsiasi tipo di prodotto e di spesa. Nuovo capitolo nella spinosa vicenda legata al paventato trasloco di post strada presso la sede dei vigili del fuoco di Sondrio. Le sigle sindacali dei pompieri hanno infatti replicato con fermezza alle voci a riguardo ultimamente circolate ribadendo il loro secco no all'ipotesi giudicando lo spostamento una soluzione semplicistica. Si vuole rimarcare alle istituzioni locali che le sedi dei vigili del fuoco trovate in provincia non piovono dal cielo si legge nel comunicato ma sono state costruite nel tempo con lungimiranza e sinergia tra forze sindacali e amministrazione stessa del ministero con progetti che danno sicurezza sia al lavoratore che al cittadino. Nel documento i rappresentanti sindacali sottolineano poi i limiti pratici derivanti dall'accorpamento delle sedi rimarcando come l'autorimessa dell'edificio già a limite come spazi escluderebbe il ricovero di automezzi della polizia. In chiusura si auspica che la prefettura in accordo con le istituzioni locali possa trovare temporaneamente spazi vuoti dove dislocare la caserma di Polstrada e contemporaneamente impegnarsi nell'elaborazione di progetti concreti per ottenere lo stanziamento necessario come avvenuto per le sedi dei vigili del fuoco. Mattinata di studio per gli operatori di polizia sul tema linguaggio del corpo i dettagli nel servizio di Giuliano Padroni. Si è tenuta quest'oggi presso la sala consigliare dell'amministrazione provinciale la giornata di studi interforze dedicata all'analisi e alla lettura del linguaggio del corpo e delle microespressioni facciali e alle strategie di comunicazione. Presenti all'incontro più di 100 agenti appartenenti a tutti i corpi di polizia del territorio valtellinese oltre al questore Gerardo Acquaviva. Si tratta di incontri che organizziamo quasi ogni mese nell'ambito dell'attività di aggiornamento professionale della Polizia di Stato e che nella circostanza poi noi estendiamo anche alle altre forze di polizia per quanto riguarda oggi è un corso di linguaggio non verbale che è molto utile per il nostro lavoro per migliorare la nostra percezione per svolgere al meglio il nostro servizio. Relatrice della conferenza la professoressa Nia Guaita sociologa e scrittrice autrice di numerosi studi sulla programmazione neurolinguistica e sulla comunicazione non verbale. Mi trovo oggi qui a Sondrio su invito della questura per questo corso di formazione Interforce dove si analizza principalmente quelli che sono i segnali gli indicatori di menzogna i segnali di stress nel corso di un interrogatorio. L'incontro è stata occasione per poter affrontare la tematica delle differenze comportamentali fra i due sessi anche alla luce dei ricorrenti casi di violenza sulle donne. Che pochi sanno la tonalità della voce la tonalità la voce del maschio dell'uomo ha tre tonalità medie e basse la donna ha cinque tonalità medie e alte sapete questo è molto importante e vi spiego il perché nel discorso che riguarda la violenza sulle donne allora perché la donna ne ha cinque medio alte la scienza non ha dato una risposta si suppone che il fatto che la donna abbia cinque tonalità di voce delle quali due sono particolarmente stridule sia legate alla sopravvivenza quindi all'esigenza di farsi sentire per chiedere aiuto in determinate situazioni più dell'uomo ad emergere la funzione speculare del corpo umano quale diretto riflesso dei sentimenti e degli stati d'animo dell'individuo uno specchio attraverso il quale risulta pressoché impossibile mentire la verità è nelle parole o nel corpo le parole le posso scegliere posso dire quello che voglio il corpo non mente leggo e interpreto quello che tu mi stai dicendo senza rendertene conto con i movimenti e i gesti che fai assumono un ruolo fondamentale nel contesto della lettura del comportamento tutti quei codici che sono poi i nostri occhi e il nostro volto a trasmettere su 80 interrogatori dell'FBI in una situazione di stress il battito di ciglia è avvenuto nel 94% delle persone e quindi è una percentuale molto alta un esempio fra tutti quello che vede come protagonista Salvatore Parolisi condannato nel 2015 ad una pena definitiva di 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea avvenuto nella primavera di 5 anni fa voi sapete che uno delle persone che è stato ripreso 8 miliardi di volte dove gli si chiedeva pareri o altro è stato Parolisi ecco una cosa che ha fatto più di una volta ed è considerato un grosso indizio di menzogna relativamente a quella domanda che ti viene fatta e attenzione è questo noi non ci accorgiamo ma se mi fai una domanda e io ti nascondo la verità quando ti dico no faccio un leggero accenno col capo per dirti sì faccio così è come se il corpo si dissocia una materia di studio davvero affascinante quella della comunicazione non verbale che mutuando le parole del filosofo americano Ralph Waldo Emerson ci ricorda che le nostre azioni parlano così forte da non riuscire a sentire quel che diciamo sono in festa per teresina tua quadro per commemorare l'illustre cittadina infatti oggi pomeriggio a partire dalle 17.30 la biblioteca Pioraina ha ospitato numerosi eventi culminati nell'inaugurazione dell'atelier degli artisti nuovo spazio dedicato al tempo libero allestito al secondo piano di Villa Quadrio nel corso delle celebrazioni spazio anche alla musica con l'intervento dei musicologi Anna Trombetta e Luca Bianchini autore del libro biografico L'angelo del violino e l'esibizione di Raffaella Portolesi al pianoforte e Marta Tortia al violino grande successo per la prima nazionale di Adele e il lupo grande successo per il debutto del film a tutto medio in valtellina Adele e il lupo andato in scena venerdì presso il teatro sociale di Sondrio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne pubblico istasiato per la pellicola che ha coinvolto ben 130 ragazzi delle scuole del capoluogo coordinati dal regista Nello Colombo ma la cosa bella è che mi ha colpito questa comunità corale che si è formata immediatamente sia per la sceneggiatura sia per la musica sia nel cast degli attori e poi le loro testimonianze vive nel raccontare la loro vita ed è proprio da queste testimonianze che ne è nata una che parlava di violenza e su questa praticamente abbiamo costruito l'intero copione nella sala gremita anche il questore Gerardo Acquaviva che ha esaltato sia la pellicola che i suoi protagonisti il messaggio che passa è bellissimo di restituire diciamo alla vita una ragazza che è stata abusata entusiasti anche i componenti della band Biroccio i ragazzi autori di un brano della colonna sonora scritta dallo stesso regista Nello Colombo tra cui Giovanni Iacuone Davide Baldini Giovanni Ruttico e il chitarrista Enrico Piritteri che hanno raccontato il loro lavoro la nascita del brano diciamo che risale ancora a prima del film è stata l'opportunità che io personalmente ma insieme soprattutto grazie agli altri ho colto di poter vedere poi realizzato quello che è un progetto comunque che fa sempre piacere vedere come vivo insomma come nuovo diciamo che i nostri amici hanno apprezzato il nostro sforzo e soprattutto anche il nostro sforzo per quanto riguarda la nostra band e ognuno ha contribuito in modo particolare alla riuscita della stesura di un ottimo brano che è stato registrato in modo impeccabile direi e quindi siamo siamo tutti veramente molto contenti ci piacerebbe continuare in questa strada perché comunque sia abbiamo visto che come gruppo siamo anche molto affiatato e insieme ci divertiamo molto e speriamo di continuare in questa strada come un gruppo unito è facile vedere più spesso anche non solo sotto in questo aspetto ma anche in giro in Valtellina si è aperta la stagione sciistica da sabato sia a Livigno che a Madesimo e in Val Malenco gli appassionati hanno potuto sfogare la loro voglia di neve e inforcare gli sci mentre si dovrà aspettare ancora un po' per l'apertura di Bormio e Aprica in entrambe le località fissate per il prossimo fine settimana e degli impianti della Valgerola e se nel piccolo Tibet si sciava già da metà ottobre sulle piste di fondo 30 km dal centro del paese fino alla zona Forcola e dall'Alpe Vago di cui al momento sono aperti circa 10 km nella schiara a Val Chiavenna la stagione si è aperta ufficialmente sabato gli impianti aperti per ora sono la Cabino Via Larici e la Seggio Via Cima Sole e con questo è tutto lascio la parola a Elisa Compagnoni con lo sport grazie Buonasera ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport questa sera apriamo con la ginnastica ritmica Veronica Bertolini brinda al terzo successo tricolore a squadre a proda il terzo titolo tricolore a squadre in casa di Veronica Bertolini la ginnasta di Taramone da 4 anni campionessa italiana individuale sabato sera a Forlì ha conquistato lo scudetto numero 3 nel torneo di serie A1 di ritmica insieme alle compagnie di squadra della San Giorgio Desio il successo si pregustava già dopo la terza tappa di Padova nella quale Veronica e compagne avevano conquistato l'ennesimo successo dopo quello di Ancone Sansepolcro a conti fatti sabato sarebbe bastato un quinto posto per aggiudicarsi il titolo italiano ma le ragazze della San Giorgio Desio non si sono accontentate e nonostante l'assenza dell'olimpionica ganna di Stadinova impegnata in una competizione in Russia hanno guadagnato il secondo gradino del podio dietro all'Armonia Abruzzo formazione con cui lo scorso anno si è divisa allo scudetto ma la regina della giornata è stata ancora lei la nostra Veronica Bertolini impeccabili gli esercizi che hanno mandato in visibilio il pubblico a corsa presso il palafiera specialmente quello con la palla dove la 21enne terramonese ha strappato un 18,300 questo non è però bastato per ottenere la vittoria di giornata andata invece come anticipato alle ragazze dell'Armonia Abruzzo ma poco importa considerato che il timbrian solo in cui milita Veronica è riuscito a conquistare la piazza d'onore nella classifica generale con 97 punti speciali davanti alla Fabriano con 86 punti ed Armonia Abruzzo con 85 lunghezze con questo nuovo alloro si chiude al meglio una stagione fatta di grandissime soddisfazioni per Veronica una fra le quali il 19esimo posto delle prove individuali delle Olimpiadi di Rio ma ora è già tempo di tornare in palestra e lavorare duramente in vista della prossima stagione nel mirino i 5 cerchi di Tokyo 2020 ed ora diamo uno sguardo ai risultati sportivi del fine settimana partendo dal calcio vittoria rimonta per il Sondrio che sul campo del Verdello spugna i padroni di casa per 2 a 1 niente da fare invece per la Pezzini per quanto riguarda il basket che in casa perde per 66 a 70 contro la Bofalora mentre la BM continua a primeggiare nel campionato di Serie D sul classando il Mariano Comense per 56 a 42 per quanto riguarda gli sport invernali ottima prestazione da parte di Reni Curtoni nel doppio appuntamento di Coppa del Mondo di Scialpino a Killington negli Stati Uniti in primis il nono posto nel Gigante di Sabato seguito dal dodicesimo posto dello slalom speciale di ieri risultati che fanno vesperare in vista delle prossime tappe del circuito internazionale e ora invece passiamo alla parola a Mirko Roncashi che ti capitola i risultati delle partite di calcio svolte nella giornata di ieri In eccellenza si è giocata la tredicesima giornata del girone di andata con questi risultati Merate Cisanese 4 a 1 Crema Villa Dalme 1 a 0 Luciano Manara Caprino 0 a 1 Mapello Bonate Casa Tesero Goreedo 1 a 2 Nibionno Giono Trevigliese 0 a 0 Rodenze Albino Gandino 2 a 0 Rivoltana Brugherio 2 a 3 Verdello Sondrio 1 a 2 La classifica Crema 30 punti Caprino 28 Casa Tesero Goreedo 27 Merate Nibionno Giono 17 Trevigliese Mapello Bonate 12 Rodenze 11 Cisanese 10 Rivoltana 9 Luciano Manara a chiudere con 8 punti Tredicesimo turno del girone di andata per il campionato di promozione Casati Arcore Speranza Grate 1 a 0 Bresso Prolissone 0 a 0 Cinisellese Barzago 1 a 2 Desio Arcellasco 3 a 1 Dippo Vimercatese Villa 1 a 0 Lissone Colico Terviese 2 a 1 Muggio Cinisello 22 Barzago Speranza Grate 21 Dippo Vimercatese 20 Prolissone Vimercatese Oreno Cinisello 19 Lissone 17 Villa 16 Casati Arcore 15 Viberonchese Edesio 13 Muggio 12 Cinisellese ultima con 8 punti Campionato in prima categoria 13esima giornata Aurora Barzanò 1 a 4 Cornatese Olimping Morbenio 1 a 2 Costa Masnaga Brioschese 4 a 2 Erbese Arcadio Olsago 1 a 0 Giovanile Canzese Mandello 1 a 2 Grosio Vedugio 0 a 3 Missaglia Calolzio Corte 1 a 2 Ponte Lambrese Cosio 1 a 1 Ponte Lambrese 30 punti Costa Masnaga 29 Cornatese Ed Erbese 25 Calolzio Corte 23 Olimping Morbenio 22 Vedugio 19 Aurora 16 Missaglia Cosio Mandello E Brioschese 15 Grosio 11 Arcadio Olsago Canzese 9 Barzanò con 7 punti In seconda categoria andate in scena Mettricesimo turno del girone di andata con questi risultati Altolario Chiavennese 0 a 5 Ardenno Buglio Polisportiva Villa 2 a 1 Bellagina Albosaggia Ponchiera 0 a 2 Berbenno Piantedo 3 a 2 Cortenova Talamonese 1 a 1 Fopenico Dubino 1 a 1 Pontese Maresso 2 a 2 Valchiavenna Lomagna 0 a 2 Chiavennese 31 punti Berbenno 29 Dubino 23 Lomagna 22 Albosaggia Ponchiera 19 Talamonese Cortenova 18 Altolario Valchiavenna Bellagina 17 Fopenico 14 Maresso 13 Ardenno Buglio 11 Pontese 10 Piantedo 9 Polisportiva Villa Chiudere con 7 punti Ultima giornata del girone di andata per il campionato di terza categoria anche se mancano alcuni recuperi che potrebbero andare a cambiare la situazione in testa alla classifica I risultati maturati in undicesimo turno Prata Bormiese 0 a 2 Sondriese Valmalenco 1 a 5 Dongo Penta Pietera 2 a 0 Tiranese Livigno 2 a 1 Tresenda Sondalo 0 a 2 Valmasino Delevio 0 a 0 Bormiese e Tiranese 26 punti Dongo 24 Penta Pietera 22 Valmasino 15 Livigno 14 Sondalo 13 Valmalenco e Delevio 11 Prata 9 Tresenda 5 Sondriese con 2 punti E con questo si conclude il nostro notiziario a risentirci alla prossima edizione Terminal Hayne 22 4 Grazie.